Ad un bar di Corso San Felice e Fortunato a Vicenza il questore ha disposto la sospensione della licenza per sette giorni e la contestuale immediata chiusura del locale. E' stato il perdurare delle problematiche di ordine e sicurezza pubblica a convincere ad applicare il severo provvedimento. All'interno dell'esercizio pubblico infatti fin dall'inizio mese era stata ripetutamente accertata la presenza di soggetti pregiudicati per reati di natura e gravità diverse che ripetutamente avevano creato disturbo e seri problemi di sicurezza pubblica ai residenti della zona che avevano denunciato la situazione con numerosi esposti. Due sere fa le pattuglie interforze con l'ausilio di cani antidroga avevano accertato la presenza di un pusher in possesso di marijuana e la presenza di altri avventori tutti pergiudicati. Un segnale inequivocabile e preoccupante per il perdurare della situazione a cui andava applicato un provvedimento più rigoroso nel tentativo di ripristinare sicurezza e tranquillità.